Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappoglia TV Oggi sono al parco di Yoyogi, vicino a Shibuya Perché sono qui? Perché facciamo lo sondaggio Con questo portafoglio da 100 yen E io perdo questo portafoglio Io voglio vedere se la gente me lo restituirà o no Perché abbiamo visto tanti video questo In Giappone la gente perde il portafoglio E tutti hanno restituito E però non ci credo E quindi proviamo Questa è un forza Perché ha aperto il portafoglio In questo caso il portafoglio era vuoto Ma se fosse stato pieno Non sappiamo come sarebbe finita Voi cosa ne pensate? Questa è un'altra Adesso prova Viviana perché voglio vedere come funziona con la straniera e corvi va bene dai provo anch'io Sì, 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 sì Sì, sì, sì Grazie per la visione!